Musica Buonasera, le ultimissime di Canale 85, 10 casi positivi in Puglia, il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. Purtroppo si registrano 6 decessi. 10 casi positivi in Puglia è il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. Purtroppo si registrano altri 6 decessi. Sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montonaro, sono stati registrati 984 test per l'infezione da Covid-19. I 10 casi sono così suddivisi. 3 nella provincia di Bari, 2 nella provincia Abbat, 2 nella provincia di Brindisi, 3 nella provincia di Foggia, nessun caso nelle province di Lecce e Taranto. Sono stati invece registrati 6 decessi, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bat e 4 nella provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.976 test. Sono 641 i pazienti gueriti. 2.912 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 3.958. I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL hanno come sempre attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Emozioni e sofferenze nel reparto dell'oncologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. A raccontarlo il professore Saverio Cinieri. Ha lasciato il segno la vittoria della signora Maria, malata oncologica che ha superato la sua battaglia contro il coronavirus. Un forte messaggio di speranza che ha toccato anche Saverio Cinieri, direttore dell'oncologia dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi e presidente dell'IOM. È stata sicuramente un'emozione importante, bella, intensa dal punto di vista medico, che è vicina anche alla professione, saluta dalla signora Maria nel momento della sua dimissione dal reparto Covid-19 gestito dal dottor Gatti, che con un atto simbolico mi ha riaffidato la paziente per iniziare le terapie. Un momento particolarmente intenso per il reparto di oncologia, da sempre impegnato in battaglie difficili, ma che non si arrende mai, anche in questo nuovo momento complicato, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il nostro reparto è un reparto Covid-free, dai primi di marzo, quando avevamo avuto alcuni ricopi di pazienti Covid, tutto il personale sta gestendo in maniera, a mio modo di vedere, molto importante e molto intensa questa fase della pandemia. Abbiamo dovuto mettere in atto delle accortezze diverse, questo per l'adegenza, i pazienti quando arrivano per il tampone si attende all'esito del tampone, sono in stanze singole e questo ovviamente ha ridotto la capacità e la capienza della preparazione. Noi non siamo fermati mai, l'oncologia in Italia non si è mai fermata, i pazienti in trattamento stanno continuando le terapie praticamente dappertutto, siamo in una fase nuova in cui riusciremo, spero anche, a recuperare, con l'aiuto dei nostri colleghi chirurghi, tutte quelle patologie che non sono state diagnosticate in questi tre mesi. Andiamo avanti e cerchiamo di lavorare sempre al meglio, perché come ne ripeto sempre, non vorrei che il Covid ci facesse dimenticare una cosa importante. Ed ora il rapporto politica c'è, perché niente messa l'aperto dal 4 maggio come si ipotizzava. Insorgono i vescovi che affermano compromessa la libertà di culto. Ancora niente messe aperte al pubblico fino al 4 maggio. Il nuovo DPCM illustrato dal Premier Conte è stata una doccia fredda per i fedeli cristiani, che continueranno a non poter prendere parte alle celebrazioni. Secondo quanto stabilito per la fase 2, infatti le uniche messe per le quali sarà consentita la partecipazione dei fedeli saranno i funerali, che saranno aperti ad un massimo di 15 congiunti. Dura la risposta da parte dei vescovi italiani. Abbiamo sentito Monsignor Michele Seccia della Curia di Lecce, che si è schierato con il resto dei vescovi d'Italia contro la scelta del Premier Giuseppe Conte. Personalmente ho detto ai parroci, come primo punto, che le chiese devono restare aperte, perché chiunque desidera entrare in chiesa per un momento di preghiera lo possa fare tranquillamente. Secondo, nel momento in cui dovessero esserci delle celebrazioni, che possono anche farsi a porte chiuse, ma in una chiesa, e le chiese abitualmente sono abbastanza ampie, Se un gruppo di parrocchiani o invitati dal parroco o di spontanea volontà desiderano partecipare e telefonando al parroco sanno a che ora il parroco celebra, ecco, ci sono tanti banchi e quindi una persona per banco, anche lo si è fatto per i pullman, non si può fare per le chiese. Ed ora il caso su della questione meridionale. Le dichiarazioni di Annalisa Chirico, scrittrice e giornalista originaria di Francavilla Fontana, a margine delle dichiarazioni di Vittorio Feltri sul sud, intervenuta nel corso del programma Non è l'arena, hanno fatto irritare diversi meridionali. Voci indignate si elevano anche dalla società Francavilla Fontana. Lo scontro tra Annalisa Chirico, giornalista e scrittrice di origini francavillese, Luca Telese sul sud, dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri a Non è l'arena, hanno fatto irritare diversi meridionali. Voci indignate si elevano in particolare dalla sua città, Francavilla Fontana, dove vivono i suoi parenti. Qui ha frequentato il liceo classico, diplomandosi a pieni voti prima di trasferirsi a Roma e laurearsi in scienze politiche. La politica è una sua grande passione fin da subito. La Chirico, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena sulla sette in riferimento alle offese che il direttore di Libero aveva rivolto ai cittadini del sud Italia, ha sostenuto che un popolo debole economicamente rischia di essere moralmente inferiore, scatenando la reazione di Telese e del conduttore Massimo Giletti. La giornalista nel corso della puntata ha difeso il direttore di Libero. Vittorio Feltri ha il diritto, ha detto la Chirico, di esprimere ciò che vuole. Ha posto un tema vero sui meridionali, perché un popolo che è economicamente più debole e più lento, alla lunga rischia di essere anche moralmente inferiore. La giornalista ha proseguito. Con morale intendo la laboriosità di un popolo, la voglia di fare di un popolo, di intraprendenza. Chi è abituato a vivere con reddito di cittadinanza diventa più fiacco. C'è una parte del sud che è anche più pigra. Sulla sua pagina social, la Chirico ha cercato di chiedere il senso delle sue dichiarazioni. Io sono pugliese e amo il sud che merita lavoro, non redditi di cittadinanza. Parole che non sono bastate a calmare gli animi proprio dei suoi concittadini. Domenico Attanasi, presidente del Consiglio Comunale di Francavilla, prova sgomento e imbarazzo per le affermazioni di Annalisa Chirico. Una meridionale che in diretta televisiva si è spinta fino a definire moralmente inferiori meridionali, andando ben oltre le fanaticazioni di Feltri. Attanasi parla di delirio. Nicola Cavallo, consigliere comunale di Taleviva, attacca la Chirico. Per Anna Maria Padula, ex assessore e docente di lettere, la Chirico ha generalizzato la grande, raccontando un sud che forse esisteva quando lei, dopo il liceo, è andata via. Per la docente che insegna lo scientifico è il giudizio morale espresso dalla Chirico, che è una ferita. Sui social la polemica non si placa. L'orgoglio dei meridionali sarebbe stato così ferito per queste voci fuori dal coro. Ed ora parliamo di un confronto, quello su diritti e libertà, nella nuova puntata di Diritti a Casa. Emma Bonino, ospite su Facebook dell'assessore comunale Sergio Tatarano. Libertà acquisita, negata, compressa, diritti e battaglie, in parte vinte e altre ancora tutte da definire. Il ruolo della donna, delle donne e il sessismo, in sintesi in generale, la libertà. Di questo l'assessore comunale di Franca Villa Fontana, Sergio Tatarano e Emma Bonino, hanno discusso live, in diretta, nella puntata Facebook di Diritti a Casa, Formato originale, ideato da Tatarano, che, tra ospiti e quarantena, ha innalzato l'asticella del confronto via social. La Bonino, ospite eccellente, ha affrontato attualità e storia senza al suo solito banalità. Senza scorciatoie, senza rincorrere nulla che non sia legato ai ideali radicali. Abbiamo visto oscillare molto spesso, da una parte all'altra, chi andava a prendere l'aperitivo perché doveva magari cercare di smorzare la tensione, chi dall'altra parte magari ha cercato inizialmente di chiedere la chiusura, poi l'apertura di tutto. Ecco, insomma, in questa situazione di caos, oggettivamente il Presidente del Consiglio ha avuto delle responsabilità grosse e delle difficoltà, direi oggettive anche, nella gestione della situazione. È evidente che da tutti i punti di vista, compreso quello umano, tutti vorremmo uscire. Non è che c'è qualcuno più spiritoso di altri, o più irrequieto di altri. Dopo più di un mese, perché tutto è successo, me lo ricorderò come uno dei miei compleanni più indimenticabili, perché l'8 marzo era il mio compleanno, passato in casa ovviamente, e quindi tutti vorremmo uscire. Questo non è che ce n'è uno di più, uno di meno. Poi c'è chi fa pesare di più le conseguenze economiche, chi fa pesare di più le conseguenze sanitarie, ovviamente chi ha avuto parenti o amici morti è più sensibile. Quindi trovare un equilibrio non è stato facile, con qualche errore di comunicazione, secondo me non necessario, ma che è sfuggito di mano. Diritti a casa funziona, onore all'idea, al concetto, alla libertà, che rivendica pensiero persino su Facebook, persino da casa, persino in quarantena. Il Confagricoltura Puglia interviene, dice la nostra regione, deve ripartire subito, altrimenti si rischia la secessione. Turismo e ristorazione sono assi portanti dell'agroalimentare pugliese. Mentre altre nazioni europee iniziano a far ripartire la loro economia, il presidente di Confagricoltura Puglia dice in Italia siamo ancora nella fase bis, ovvero una fase 1 leggermente edulcorata, ma con effetti recessivi per il sistema paese. Questa è la nostra ultima notizia, appuntamento a domani alle ore 7 con la rassegna stampa a seguire la prima edizione del nostro OTG. A voi tutti una cordiale buonanotte. A voi tutti unauscità presителя del nostro OTG.